Clayton Norcross è entrato nella casa del grande fratello. L'attore, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Thorne in Beautiful, ha varcato la soglia della porta rossa del programma di Canale 5 nella puntata di lunedì 23 settembre e ha tante storie da ascoltare, tanti inquilini da conoscere, tanto tempo da recuperare. L'attore, però, non si scoraggia e si adatta bene ai ritmi della casa, ai discorsi, alle tante attività organizzate dai coinquilini. La prima con cui si apre e con la quale si rapporta è Shaila. La ballerina è affascinata dalle storie di Hollywood tanto quanto è interessata alla profondità e alle emozioni. Shaila, appassionata di sensazioni, si incuriosisce ascoltando alcuni racconti di Clayton, relazioni passate, fugaci e importanti, brevi o lunghi. L'attore racconta che l'amore è difficile, l'amore ha un lavoro complesso e spesso si fraintende la passione con l'amore, se il cuore non arriva alla fiducia, non può meritare tutto il mio amore. Anche la ragazza concorda con il nuovo coinquilino, esprimendo la propria opinione, un pensiero costruito tra ferite e felicità idealizzate, amore è tanto, ma occorre capire l'altro, mentre si cerca di capire se stessi. A proposito di amore, Shaila chiede all'uomo se ci sia amore nel suo cuore, ma l'uomo non sa rispondere. Clayton racconta sprazzi della storia più importante, la storia che ha dominato il suo cuore. L'ultimo matrimonio lo ha deluso fortemente, ho pensato che non avrei più voluto soffrire. Lei non lo amava più, lui ha smesso di essere innamorato. Si è cercato, si è trovato in se stesso, era tanto smarrito da non provare più nulla. Ciò di cui aveva bisogno, e forse ancora oggi, sono carezze, attenzioni, tenerezza. Shaila chiede all'uomo se si sente predisposto verso un nuovo amore, ma, ancora, l'attore è in difficoltà, cosa vuole esattamente il mio cuore? Non lo so. Ma il torne di Beautiful non sa che giovedì per lui ci sarà una grande sorpresa. Un ex amore di Beautiful entrerà nella casa per lui. Ovviamente stiamo parlando dell'attrice Katherine Kali-Lang, che tutti conosciamo per interpretare fin dagli esordi il personaggio di Brooke Logan nella famosa sopopera. L'annuncio nel promo è andato in onda su Canale 5. Nella casa entrerà Brooke di Beautiful.